Un accorato appello da parte dell'autorità sanitaria ad effettuare la quarta dose di vaccino anti-covid soprattutto per gli ultra-ottantenni e per i pazienti ritenuti fragili. Abbiamo visto che le infezioni in corso sono tre volte superiori rispetto a quelle dell'anno precedente. A fronte di questo sono molto calati i ricoveri ospedalieri, quindi le forme gravi, però è salita notevolmente la percentuale dei soggetti anziani, ovvero 80, tra i soggetti ricoverati. Gli ultra-ottantenni in Toscana sono circa un milione e ad oggi hanno effettuato la quarta dose soltanto in 48.000. I soggetti fragili invece in 13.000 su una popolazione di oltre 600.000 persone. Tutte le persone con diabete sono particolarmente fragili verso le infezioni. Questo perché l'iperglicemia, cioè gli alti valori di zucchero nel sangue, riducono la capacità da parte del sistema immunitario di rispondere alle infezioni. È fondamentale che tutte le persone con diabete di tipo 1 e di tipo 2, che abbiano compiute 60 anni di età, rinforzino la loro risposta immunitaria attraverso la somministrazione della quarta dose. I soggetti fragili in generale, oltre 80 anni, ricoverati nei casi di riposo, nell'RSA, e i pazienti cronici con malattie soprattutto debilitanti e gli immunodepressi, gli importanti immunodepressi. Queste sono le maggiori indicazioni che ci fornisce il Ministero della Salute. Ci dicono essere assolutamente positivi per quello che riguarda la riduzione dell'ospedalizzazione di queste persone. Escludendo i soggetti fragili, la vaccinazione sarà possibile anche nelle farmacie, mentre per coloro che non possono muoversi dal proprio domicilio sarà possibile fare una richiesta specifica. Possono rivolgersi al loro medico curante, che potrà eseguire la vaccinazione direttamente a domicilio, oppure attivare le USCA che potranno procedere. Grazie. Grazie.